buongiorno a tutti benvenuti in agricola oggi vedremo come si allestisce un albero di natale ci sono due tipologie di albero quello classico che rimane con una base dai 100 al metro e 80 di larghezza o se no alberi che noi definiamo slim che quindi si sviluppano di più in altezza la prima cosa da fare è aprire l'albero in maniera uniforme apriamo ogni singolo ramo e successivamente ogni singolo rametto in ogni direzione in maniera tridimensionale questa operazione va fatta su tutto l'albero in modo che abbia una forma omogenea a questo punto possiamo illuminare il nostro albero in commercio ci sono diverse tipologie di luci luce calda luce fredda colorata o monocolore noi le suddividiamo in due grandi categorie luci col cavo verde che vanno al centro dell'albero e le luci che vanno esternamente all'albero che sono decorative quindi iniziamo con le lucine col cavo verde si partirà dal fondo dell'albero e verso il centro dell'albero posizionando il cavo tra i vari rami e venendo in avanti verso la punta tornando indietro sullo stesso ramo andando sempre verso il centro dell'albero successivamente si passerà al ramo accanto e si farà la stessa operazione la regola è molto semplice si illumina ogni singolo ramo passando sempre dal centro le luci decorative invece vanno posizionate solo all'esterno dell'albero dopo aver messo le luci possiamo coprire la base del piedistallo dell'albero con un coprialbero può essere in tessuto in metallo o in midollino teniamo l'allestimento del nostro albero suddividendo gli elementi decorativi in grandi medi e piccoli sulla base cercheremo di utilizzare più elementi grandi e successivamente i più piccoli buon natale da cecilia e dall'agricola grazie a tutti grazie a tutti